Il conducente ha perso il controllo della vettura che è finita giù dalla scarpata ribaltandosi. È accaduto ieri sera, martedì 23 ottobre, poco prima delle 23.30 a Fiano, in via Giovanni Agnelli, ad una Volkswagen Golf con a bordo quattro giovani. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Mati, i carabinieri di Fiano e due ambulanze della Croce Rossa di Fiano e Mati. I quattro giovani, dopo le prime cure, sono stati accompagnati all'ospedale di Cerie. Non sono in pericolo di vita, accertamente in corso sulle cause dell'incidente. Grazie a tutti.